Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video. So che da un po' di tempo che non carico, perché vuoi chiedere, perché hai caricato quando stai in Canada, per quello. Quando nel viaggio di ritorno ho pensato che volevo aprire un secondo canale, dove però sul primo ci sarò sempre, perché io ho il settembre comunque. Oggi è il giorno prima dell'ultimo giorno di capodanno, quindi io spero che voi lo passiate in modo fichissimo, con solo i veri bombers che lo sanno passare. E quindi, allora, il mio secondo canale, di cosa tratterò la questione? Dando del mio letto disfatto, perché così va la vita e così va. Oggi, cioè, in questo canale cosa porterò? Porterò giù videogiochi, videogiochi, gameplay, sul mio bellissimo telefono. Un sacco di serie, un sacco di roba figa, tra Pokémon e... macchine, cioè, un sacco di roba figa, porterò pure i giochi da tavolo. Quindi, se voi siete lì e siete pronti, mi lasciate un sacco di mi piace. Io vi aspetto, solo qui, solo sul mio secondo canale, chiamato King's Garden, perché ho pensato. Ehm, giardino dei giochi. Ehm, giardino delle, che è dei giochi. Quindi, se vi piace questa idea, io vi mando un settore, una coppa al lupone, e noi ci becchiamo. A presto. Domani non carico il video, perché domani è giornata sacra, perché capo da non si beve, se vuole, se droga, se famo, se tutto. Domani non si beve, non si beve, se droga, se famo, se tutto. Ciao ragazzi. Ciao Bombers!